no 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 ma benvenuto di nuovo signor poggo questa volta è un horror sei felice? esatto però ho notato una cosa che graficos mi consigli? bagio medio alto epico io direi epico però non mettiamo il dinero infinito e qui andiamo su giugar Giuga Ma Ci siamo? Sì Che figata Ma questa roba è bellissima Quindi tu sei un cameraman E devi sconfiggere Ma Gli schibi di toilet Che escono da Best Burger Sembra cosa? Ma è vero Sembra payday Ma la versione tipo Di Wish Che poi Allora la prima ondata Ma Se non sei schibi di toilet Guarda Ma quindi stavo lì sopra Che era il menu Attento Che schifo Mamma mia Ma secondo te arrivano schibi di toilet Anche più potenti del normale? Non lo so I normali e poi gli altri Anche perché questa è l'ondata Ho fatto No o lei anda Aspetta se primi P C'è la tienda P? La tienda? Guarda puoi aumentare la precisione Il danno Le munizioni Il dinero Il calcio E se lancia granate E se rifle E la scopeta La scopeta Perché le scopeta Cosa devi pulire per terra Con le scopeta Probabile Dove sono i schibidi 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 Eccoli Vedi con le cose Verdi in testa Mi raccomando Prendi bene la mira E spara Mi sa che diventano Anche più forti Di toilet Sei Anche all'ultimo Dai Ok Perfetto Hai 11.000 Ah no si vero Sono stupido Allora armi Non le possiamo prendere Però puoi aumentare La precisione O il danno Io conservo Vuoi prendere il lanciarazzi Ah ok Quindi aspetti 25.000 Per provare il lanciarazzi Esatto Sei alla olea da 3 Nel senso che Hanno messo l'olio Non ho capito Questo gioco mi confonde Ma perché spagnolo Ma esatto Cioè In inglese no Ma poi una cosa Ma il mio collo Aia Attento Ci pensi dopo al tuo collo Ti stanno spaccando la schiena Ma guarda è stortissimo È vero Mamma mia Ma esce anche dalla schiena Ma che dolore Aia Questo sembra il gioco Delle rane che avevi fatto Quelle di Pepo la rana Non so se ti ricordi Che testa Sì 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 Però versione Schibidi Toilet Sta roba è bellissima Ok Sei all'olea da 4 Sì Eh però ti conviene Aumentare i soldi Che ti danno Perché sennò ci arrivi domani A 25 Vero Quindi aumentare l'ultimo E sarebbe il di nero Perfetto Livello 2 Adesso dovrebbe darti Molti più soldi O almeno Credo Teoricamente Non so Non lo so Però guarda come è fatto bene il gioco Ma si può Ah non si può scendere giù Peccato Schibidi dopo Ho visto che cambiano anche la faccia Ci sono delle facce diverse Ho notato Forse è una certa No sono le stesse Di boss Ah ok sono le stesse Ma la tua vita dov'è Effettivamente Cioè sei l'unico Senza vita Visto Via 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 Non posso saltare Eh vabbè Hanno fatto gli iscrivitoli Telearmi Adesso stai chiedendo troppo Anche di saltare Non credo proprio Ehi Ma è fortissimo Non morire Scappa 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 Di vincola Ti scappa Però lì one shot Si è visto lì one shot Per fortuna Non ti fai danno Non è il massimo E diciamo che Se ce li hai tutti davanti Non è proprio bellissimo Ma puoi switchare le armi Non lo so No Mi sa non posso Possibile Cioè se premi uno o due Non va No 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 Vai via 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 cat Vai via Bravo 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 Oh no 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 cat Perché ho preso st'arma Non fa niente Non fa niente Stai attento Ok no però prendo più di uno Mamma mia che ansia Cat mi ha fatto cacare addosso Allora io direi di aspettare Direi di aspettare Le munition Munition Non troppe Non troppe Non spendere troppi soldi Eh no Perché mio così Posso caricare molto di più Sette colpi Oh Due Non va Con la rotellina del mouse Non ti fa cambiare arma No Oh mamma Oh mamma Ok allora devi prenderle a distanza Non puoi morire bro Non puoi morire Ok Piano 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 Sì 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 Ce l'hai Ce l'hai Attento attento a non incastrarti Bravo 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 Ricarica ricarica No 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 Cosa succede? Ma Ti hanno buttato a terra No Poggo Eh no Non è solo uno Due Ma cos'è sta roba Ma cos'è lo Slenderman È Roblox Ma guarda lì dietro l'albero Guarda Mamma mia Vai Vai play Play sono tutto tuo Vai Che si deve fare? Devi scappare dalla foresta Esatto E skip Eh ma sono velocissimo Eh sì Anche loro mi sa Stai un po' attento Devi trovare l'uscita dalla foresta È più veloce Ma è più veloce me Si ha un bel problema No 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 E per questo devi stare attento Ma c'è Ma poco hanno doppiato la frase Sghibiti Senti Aspetta È vero C'è qualcuno che dice Sghibiti 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 Allora pensa Rifletti Crea un piano d'azione Secondo te cosa possiamo fare? Ah boh Ti odio Ti odio Non vale Guarda che schifo tu Non io Ah posso saltare? Beh almeno su questo gioco puoi saltare Sull'altro Dobbiamo trovare l'uscita della foresta Dove può essere l'uscita della foresta? Io so chi ti segue Deve andare sempre a destra Quindi Sì ma qua come fai a capire la destra? Sì mi hai un attimo fatto vomitare Però ok Della luce lì in fondo Tipo Non so È strano Vedo come se nella foresta ci fosse una specie di bagliore Esatto O semplicemente Sono i cianche che non caricano Beh a destra? Sì da quella parte Vedi ci sono Ah il mio colo Mi ha distrutto Ci sono delle pianure Ok Sta cambiando la conformazione Della foresta e ce n'è un altro Può darsi che stia andando nella direzione giusta Se ne è apparso un altro eh Non buono allora No c'è qualcosa lì Ce n'è un altro? Vai C'è una strada dove hai diseguito la strada? Eh effettivamente sì Quanti ce ne hai dietro? Però uno Non si sa Non si sa Non fa niente Non fa niente Ok la strada si è persa Però possiamo continuare Esatto Lì c'è una struttura Davvero? Lo riesco a vedere No non la vedo neanch'io Ma sembra veramente lo Slender fatto male Ma è una recensione Una recensione Esatto Dici che si può salire sulla recensione? Oh no Oh no Che faccio? Eh mi sa che allora devi seguire la recensione finché non trovi una specie di buco Eh Cos'è la sceneggiatta con Titan Esatto Esatto Oppure non potevano darti delle pinze Aprire la recensione e farti scappare Esatto C'è Simpatico Ma mi sa che non ti stanno Inseguendo più Poggo Ho trovato la porta Non ci credo Come? C'è una chiave Vai indietro al campo e trova una chiave Mi prendi in giro No Ci abbiamo camminato tre quarti d'ora Non ci posso credere No no Non ci posso credere Dove sono poi gli schibi di toilet? Sono stappati anche loro? Sono morti anche loro? Poggo ho ritrovato il campo Ok ok Lì vicino dovrebbe esserci la chiave C'è un grosso alone giallo Esatto Penso che la chiave sia lì Eccola Ok 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 Hai anche la torcia adesso Hai notato? Ti ricordi Dove era la porta? Sì 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 Stava lì dritto Vai Vai Possiamo farcela Kat Possiamo farcela Dai Gli schibi di toilet momentaneamente non ci sono Ma ho paura che arrivino Ma quindi noi abbiamo Corso senza sapere della roba della chiave quindi Sì Praticamente sì Ma penso facesse parte della missione Suppongo Mi sta venendo ansia lo sai Mi sto cagando addosso Eh Lo so Oh Vedo la recensione Dai Vai Dai 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 ti prego Dov'era? Eccolo lì Ok Ok Kat Possiamo scappare Via Via veloce Via veloce Sì Ce l'abbiamo fatta Non ci credo Abbiamo rotto un gioco rotto Cioè l'abbiamo vinto E Poggo la spensa Non è ancora finito No ti prego basta E Poggo benvenuto sull'ultimo gioco Non ne posso più Non ne posso più Io non ne posso più Basta Questo è tipo FNAF Oh mamma mia Devo sopravvivere Sì Sì però FNAF Devi guardare le telecamere No devo eliminare La pistola Cos'è? Oh però Questo Questo non è fatto male Oh mamma mia Questo Questo è carino però Ma posso pure fare gli headshot? Eh penso di sì Ma quella porta lì No no scherzavo Quella porta lì Puoi entrarci Salve No No mi sa che si apre dopo Per cambiare livello forse Hai capito Loro sono in questo cimitero Ma ti aspettano Fermi Esatto Sì devo attivarli io Che ansia Guarda Cosa succede qui? Ce ne Te ne manca uno Stai attento Te ne manca uno Vero Dove si è imboscato? Se si è sotterrato Guaione Sandy Coso Per favore Puoi venire e uscire fuori Dai per favore Dai che devo scendere il cane Che lo devo portare a fare il pipì E poi a mamma Mi sta a chiamare Devo mangiare Mi fa mangiare la pasta Comunque Questo gioco è così bello Che Visto che è finito l'effetto sonoro Non l'hanno ripetuto Eh certo Il budget Costava troppo Vado a ripetere Ci sia un budget Per fare un gioco Dove sia un cameraman Tutto storto Che deve sparare A degli schibi Di toilet Non credo Vero Ma dove è la Ah eccolo Lo tempo Che stava tutto imboscato Ciao Ah ok Forse un livello Che cambia anche L'ambientazione C'è la luce Finalmente Sì In una specie Di nave aliena Questa roba È fighissima 18 Ma c'è un'arma Sì Stai attento Però che ti stanno Inseguendo tutti Stai attento Un mitra Finalmente No No Su Stai attento Vai Vai bravo Bravo Ok Scrivi di doppi Sì 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 Eravamo 18 Siamo a 11 Come quando è successo È il mitra Ah ho capito Ne mancano 6 Quindi Cos'è sarà più avanti Cioè Siamo ora in un laboratorio Siamo in un laboratorio Suppongo che prima o poi ci sarà Una boss fight O almeno Per forza No Eeeh No 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 No